Bricchini e bricchini e benvenuti nella Schepardtory 4 io e questo cumulo gigantesco di Sugarcannes ragazzi io non capisco per quale... ciao dio bello eh, però ragazzi veramente sono giga... guarda quante, guarda milioni, cosa hanno 3 stack, 4 stack, vediamo un pochetto comunque avete questa mod qua che spara i Sugarcannes a cannone veramente carina, che c'è qua una bomba ah ho messo un'altra co-seed perché mi sembra un'altra mucca non è ancora cresciuta, allora faccio quanto è lento allora vediamo un pochetto, un pochetto, quante Sugarcannes ho fatto ah faccio 4 stack quasi, buono, allora ragazzi ho fatto qualche altro alberello, ormai non ve li faccio più vedere quando faccio gli alberi perché ovviamente inizia a essere ripetitivo ho fatto l'albero dello smeraldo, ve lo faccio dire giusto per emeraldo sapling, lunga eh, lunga perché a parte queste cose qua e vabbè, da non stampa che l'ho già fatto abbastanza facile, per fare questo mi servono i Grim Slime per fare questo mi servono questi, questi, cioè ragazzi lunga, lunga, però una volta fatto possiamo benissimo fare così e abbiamo 10 smeraldozzi che schifono ci si fanno allora ragazzi, la serie sta andando abbastanza bene il problema è uno solo, inizio veramente ad avere poco spazio io volevo buttarmi sulla, sulla Upled allora il suo Upled peccato che la Upled, la base dell'Upled è un inscriver inscriver l'inscriver che si fa con, questi qua che sono fatti benissimi ma così fa con, o il Porfure Fluid Crystal o col Fluid Crystal per fare il Fluid Crystal devo fare un Fluid Infuser o un Alloy Fornace, questi qua ho già fatti molto facili è un altro alberello, non ve lo faccio neanche vedere però per fare questo qua, l'Alloy Fornace mi serve questo, non lo dite, oh ma è facile peccato che questo qua, il Copper Soenoid, il Basic Plating si fa con la Grafite e la Grafite devo fare un Manufacturing e il Manufacturing si fa con il Copper quindi devo fare il Copper per fare il Copper ragazzi devo trovare il Copper il Copper è facile da fare non è impossibile, ve lo faccio anche vedere il Copper, il Copper si fa con ma ve lo faccio vedere con il Copper Amber che è qua che Copper Amber ragazzi ve lo faccio l'ho già segnato, guardate io mi sono trovato anche una becchina con questo, 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 questo un po' di Sand l'ho trovata quella che ho in giro probabilmente ne ho ancora in qualche parte però non la trovo devo fare prima la Red Sand la Red Sand come si fa? si fa con o il sangue nella Tinker scomodo oppure un calderone con dentro Red Eye Red Eye è facile è bottiglietta d'acqua e un bellissimo fioricellino quindi ho messo a buttiglietta l'acqua e il fiore io prendo la mia bella Sand faccio Pim 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 e qua abbiamo fatto uno prendiamoci oh guarda ho già un ciclo d'acqua pronto quindi BAM ci prendiamo un bel fioretto rosso vai così lo facciamo unitare rosso riprendiamo la nostra barra Sand vai zoom 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 ma io vuoi che non abbia l'altra Sand in giro ma ce l'ho con certezza l'altra Sand dai dov'è che è? Sand 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 non ho del scusatemi eh Level Diamond Sand ah subito Sand come si fa la Sand? si fa così 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 con quanti pezzi? quindi uno due tre quattro uno due sono due risolversi di più ah perché lo prendi questi giustamente non è un problema allora Sand facciamone boh quattordici quindici pezzi di Sand la trasformiamo anche questa qua in in Sand rossa ok e ragazzi voi guardate adesso come si fa il Copper il Copper si fa così teak teak otto pezzi di Copper poi otto pezzi di Copper ah qui sto bruciando un po' di cose perfetto bello buono gli otto pezzi di Copper una volta bruciati dovrebbero andare eh per fare la Loil Fornace cioè dovrei fare questa roba qua per due complicato complicato ragazzi ho fatto un Simple Combustion Generator facile 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 Combustion Combustion Generator abbastanza facile a fare guardate stupidata più un wireless 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 altro qua molto semplice da fare così ho preso questi building gadget exchange gadget e ho cambiato tutto il pavimento l'ho messo in legnozzo e poi mi sono abbassato i quattro un bucio pazzesco perché ero lì con l'inventario vuoto con stack e stack di legno però l'ho fatto almeno se qua si caricheranno poi adesso lasciamo qui cosa facciamo oggi ragazzi gestione inventario gestione inventario voglio iniziare a fare la Simple la Simple lo so che non è come la Appled però facciamo la Simple Storage Simple Storage parte tutto da un Network Master allora io il quarzo avete visto ce l'ho quindi andiamo a farci qualche bloccatigno di quarzo quindi block of quarzo diciamo 16 per iniziare vabbè poi mi serve un diamante che ce l'ho dovrò averne non tantissimi ma qualcosina dovrò averne 15 ma ne ho di certo altro che parte e questi qua questi qua si fanno con le Storm Slab che ho già e l'Iron io l'Iron ce l'ho non so dove ma l'Iron ce l'ho perché parte due pezzi d'Iron eh ma mi si è spiegato zio ho solo due pezzi d'Iron veramente mi sembra un po' mi sembra un po' strano che ho solo due pezzi d'Iron no ma scusi ho solo i pezzi d'Iron aha eccolo qua infatti mi ricordavo che avevo messo un po' l'Iron a cuocere perfetto quindi facciamone facciamone uno stack uno stack poi per fare quella roba lì basta fare così e pam a me ne basta uno poi mi sembra il request table che si fa col gold col gold il gold dovrei averlo anche qua non tantissimo 7 pezzi bastano 7 pezzi ipotizzo andiamo di qua andiamo di qua non ho la crafting table veramente non ho la crafting come è possibile che non abbiano una crafting table non possono avere una crafting table eccolo qua su IZMF questi abbiamo i link mi servono per connettere gli inventari ne facciamo 12 lo storage export a inventari io i pistoni li avevo li avevo preparati quanti li avevo preparati 4 pistoni vabbè meglio che niente quindi storage export così ah non ho preso i pistoni perché sono pieno come un uovo quindi pistons perfetto storage export facciamone facciamone 13 storage import ne facciamo anche qua 16 risparmiamo uno di questi poi buttar via questo buttar via questo buttar via questo per questo su qua per adesso li buttiamo via no su qua no mi serve e buttiamo anche questi qua dentro se tutto va come deve andare ho export import storage stone cavi devo fare altri cavetti perché ne ho pochi relativamente e giustamente io ho appena messo dentro le slab e i ingot quindi facciamoci altri stone batte la pesca altri altri di questi facciamo uno stack e mezzo ma si uno stack e mezzo secondo me basta avanza e mezzo processing cable in the network ma un controller io lo faria anche peccato che vuole lapis cavoli e un processing cable che no quindi no allora ragazzi io vi faccio vedere al volo come si imposta poi poi lo giustisco io il cuore di tutto ciò è lo storage manual master perfetto non so se funziona con l'energia però nel caso abbiamo un simple generator poi mi serve request table che perfetto mi fa vedere le cose i cavi vanno collegati con facciamo così facciamo una una cesta al volo giusto per far vedere i cavi vanno collegati a delle ceste io poi le ceste le farò un upgrade a tutte le gold ceste come minimo se non iron ceste non ci sono le ceste migliorate non ci sono le ceste più belline ci sono ceste di altre tipologie che magari vanno bene comunque queste qua le small memory chest le memory chest queste qua magari sono fattibili non so sì secondo me è subattibile il modus spawner ogni tanto mi tira poi qualche enderpearl comunque nel caso è un problema mettiamo le ceste qua collegate prendiamo un non export ma storage se io qua dentro metto tipo lockwood qua dentro vedo lockwood e posso buttare dentro tutte le mie유 schifezze e le trovo qua se poi io prendo e le riprendo guardate tuttututututututututututu qua è tutto svuota ragazzi io mi metto e faccio una sfila una fila di cose pazzesche collego tutte queste ceste collego a simple così abbiamo tutto insieme e poi ragazzi iniziermo a aumentare un pochino più normale io vi ringrazio per la visione, ricordi, commentate, lasciate un mi piace per il video, iscrivetevi al tibale, la campanellina detto questo vi saluto e addio ragazzi, è vero il pesce, ciao